La percentuale di posti occupati da pazienti covid nei reparti di area non critica sale al 30% in Italia. In 24 ore cresce in 8 regioni, tra cui la Sicilia, che oggi sfiora il 37% di posti letto occupati. La quarta ondata della pandemia è arrivata al suo punto apicale, secondo le analisi dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone, condotte dal matematico Giovanni Sebastiani del CNR. Il picco della curva epidemiologica è stato raggiunto. Adesso però, a pagare il prezzo di un mese in cui il tasso di positività ha superato anche il 30%, sono gli ospedali dove tornano le ambulanze in coda. Ieri al pronto soccorso covid dell'ospedale Cervello di Palermo, come era già accaduto il 5 gennaio scorso, quando gli operatori del 118 in attesa da ore azionarono le sirene in segno di protesta, diversi mezzi sono rimasti in attesa di consegnare i pazienti. Ma i posti letto dedicati scarseggiano e alcune ambulanze sono state dirottate all'ospedale di Partinico, altre all'ospedale civico. In queste ore sono in corso riunioni per riconvertire alcune divisioni ospedaliere nei nosocomi del capoluogo in modo da destinarle a pazienti covid. Due reparti al civico e almeno uno al policlinico per fronteggiare l'aumento di ricoverati.